Saranno circa 480 in totale i bambini che parteciperanno alla terza edizione della Fessa del Libro, la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale sancataldese, insieme alla quarta commissione consigliare che si terrà i prossimi giovedì 20 e venerdì 21 aprile alla Villa Comunale in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Tra gli scopi dell'evento inserito nel programma che permetterà di conferire a San Cataldo il riconoscimento dell'Unicef di Città Amica dei Bambini, quello di diffondere l'amore per la lettura. La diffusione dell'amore per la lettura, la promozione dell'amore per la lettura è l'obiettivo che ci siamo posti sin dall'inizio nell'organizzare questa, permettetemi di dirlo, pregevole iniziativa che cade, coincide con la giornata mondiale del libro. È già giunta la terza edizione, è cresciuta negli anni, abbiamo coinvolto le scolaresche della città e le librerie che lavorano nel nostro territorio, in modo da creare un grande laboratorio creativo, artistico che avrà luogo nella nostra villa comunale. Tra le attività, inoltre, giovedì 20, lo spettacolo teatrale di Michele Sberna con l'associazione Convivium e il laboratorio creativo Un Viaggio a Librilandia con gli studenti di scuole elementari e medie, mentre venerdì 21, la lettura di una fiabba a cura dell'attore Adriano Dell'Utri e coloriamo a Librilandia per i piccoli della scuola materna guidati dagli studenti del liceo artistico. Prevista anche la partecipazione dell'associazione Gioco del Sorriso e anche l'aspetto più ludico del lancio dei palloncini, della distribuzione dello zucchero filato, oltre alla consegna degli attestati di partecipazione. Alla conferenza di presentazione è presente anche la presidente della quarta commissione consigliare alla cultura, Marianna Gutilla. L'inclusione dell'altro è il tema di questa edizione. Il tema della manifestazione sarà io e l'altro, perfettamente in linea con le linee che diciamo anche dall'Unicef provengono a livello nazionale e quindi noi vedremo l'inclusione dell'altro diverso da me, sotto vari punti di vista. Quindi non solo l'immigrato tipicamente come noi lo intendiamo, ma l'altro in tutte le sue forme e quindi diciamo a misura più di bambino, proprio per questi due giorni, adattati ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola elementare media. Una rivisitazione diciamo moderna, prendendo spunto sempre da quello che è l'amore per il libro, perché anche attraverso le diverse nazionalità si può viaggiare con un libro in mano. Tra l'altro parteciperanno e quindi in questo progetto anche gli ospiti minorenni non accompagnati dell'IPAB, che abbiamo deciso di coinvolgere facendoli partecipare attivamente, quindi in entrambe le giornate racconteranno una favola tipica loro del loro territorio e poi faranno una sorta di animazione vagante alla villa, quindi dei canti loro particolari accompagnati da musica, da degli strumenti che loro utilizzeranno, proprio per far vivere visivamente anche ai bambini questa diversità e il fatto che comunque insieme si può lavorare e soprattutto spronare proprio a questo, alla collaborazione con gli altri.